I campi flegrei sono un'ampia area vulcanica che sviluppa occidente nella città di Napoli. Essa comprende i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Giuliano e la stessa città di Napoli nella sua parte occidentale. Il vulcanismo nell'area è molto antico e è stato caratterizzato da numerose eruzioni in prevalenza esplosive datate almeno da 110 mila anni fa. Alcuni dei vulcani, dei centri riduttivi che hanno prodotto queste eruzioni sono ancora ben riconoscibili anche nel territorio della città di Napoli, come San Martino, Monte Echia, ma anche lungo il bordo settentrino della Caldera, a Cuma, Quarto, Monte di Procida, dove si vedono ancora i vulcani che hanno alimentato questo vulcanismo antico. Le eruzioni più grosse e più importanti sono avvenute 40 mila e 15 mila anni fa, quando nell'area sono avvenute le due eruzioni catastrofiche, l'innibide campana e il tufo giallo napoletano, che hanno eruttato da decine a centinaia di chilometri cubi di magma, alimentate da grosse camere magmatiche, il cui svuotamento e conseguente sprofondamento ha prodotto l'attuale assetto dei campi flegrei. Le rocce di queste due eruzioni catastrofiche sono state ampiamente utilizzate come materiale da costruzione sin dall'antichità, parliamo dell'innibide campana, il tufo grigio, il piperno, il tufo giallo napoletano. Dopo l'ultima di queste due eruzioni il vulcanismo si è concentrato nell'area del prodotto alcolasso calderico e sono avvenute circa 70 eruzioni, la maggior parte esplosive, da centri monogenici, cioè che hanno praticamente eruttato una sola volta. Il vulcanismo si è concentrato, si è classerizzato in tre epoche di attività caldera, caratterizzate da frequenti eventi esplosivi e pochi effusivi di varia scala, da piccole eruzioni che hanno emesso qualche centesimo di chilometro cubo, a le eruzioni pliniane. Ne sono avvenute solo due negli ultimi 15 mila anni e le più frequenti però sono state le piccole, eruzioni piccole e medie. Le eruzioni pliniane sono state due, pomici principali e agnano-montespina e sono entrambe avvenute nel settore orientale della caldera. I prodotti di queste eruzioni sono distribuiti prevalentemente nell'area dei campi fegrei, mentre solo quelli delle pliniane sono distribuiti fino agli appennini e anche oltre. I prodotti sono rappresentati da depositi da flusso bioclastico, quindi legati a scorrimento dei flussi bioclastici, mentre più lontano arrivano i depositi da caduta, la cenere, le pomici. Le tracce della cenere da caduta di queste eruzioni sono ampiamente presenti nella Piana Campana, nella città di Napoli, però gli eventi più grossi hanno lasciato spessori maggiori. Altro elemento peculiare delle eruzioni di Flegrei è che la maggior parte delle eruzioni sono dominate da esplosioni freatomagmatiche, cioè dovute al contatto tra acqua esterna e magma e questo aumenta l'esplosività delle eruzioni e quindi anche gli effetti. Questa interazione genera l'elevata frammentazione del magma in piccole particelle vetrose e genera la cenere vulcanica che localmente è nota come Pozzolana. Alle tre epoche di attività dei campi Flegrei sono seguite lunghe fasi di quiescenza, di inattività completa che sono durate anche migliaia di anni. L'ultima di queste è durata 3.000 anni e ha preceduto l'eruzione del Monte Nuovo avvenuta nel 1538. Un altro elemento che ha caratterizzato la storia recente della caldera è la significativa deformazione del suolo, non solo quella che ha preceduto l'eruzione di Monte Nuovo, infatti tutta l'area complessa tra Monte Nuovo e la pietra è stata ripetutamente sollevata prima e durante le fasi vulcanismo intenso. L'area è nota attualmente come la Starza, è un terrazzo marino, una superficie spianata limitata a sud da una vecchia valesia. La spianata è derivata dalla lunga persistenza dell'area al di sotto del livello del mare, sollevata per la spinta del magma nell'ultimo periodo anche di 50 metri. Quest'area è stata sollevata ripetutamente negli ultimi 10.000 anni ed è accompagnato le varie epoche, in particolare la terza, durante la quale, come ho detto, si è sollevata l'area di 50 metri. L'area è stata sollevata anche prima dell'eruzione di Monte Nuovo, questo sollevamento è durato alcuni secoli e poco prima dell'eruzione, un paio d'anni prima, questo sollevamento che ha sempre interessato all'area centrale di Pozzuoli ha determinato una deformazione dell'area proprio dell'area di Monte Nuovo, vicino a dove si sarebbe aperta la nuova bocca eruttiva. Il sollevamento è stato accompagnato da sismicità intensa, frequente, che nei giorni prima, nei due anni prima e nei giorni prima dell'eruzione è diventata talmente intensa che la popolazione che risiedeva in un villaggio nell'area di Monte Nuovo che si chiamava Tripergole, spaventata dai fenomeni ai quali si aggiunsero apertura di fratture, fuoriuscita di acque calde, fredde, rapido avanzamento della linea di costa con terremoti continui, praticamente si allontano dall'area. L'eruzione del Monte Nuovo è durata una settimana, ma la fase principale dell'eruzione è durata solo due giorni, i primi due giorni, quando si formò il nuovo cono, poi è stata seguita da piccole fasi di inattività e di piccole esplosioni e durante l'ultima di queste esplosioni, dopo una settimana, sono morte 24 persone, curiose, che salivano su questo monte a vedere cosa fosse accaduto. La caldera è anche interessata da un'estesa e intensa attività aerotermale, con manifestazioni, fuoriuscite di fumarole gas, sia a terra che a mare, i più famosi sono la Resolfatara, Pisciarelli, Agnano, Mofete, i nomi evocano l'attività e anche il Golfo di Pozzuolo è interessato da forti emissioni, come per esempio alle fumose, anche questo nome a sud di Monte Nuovo evoca questo processo. La caldera è monitorata attualmente attraverso un complesso sistema di rilevazione multiparametrico, i cui dati sono inviati in tempo reale all'osservatore vesuviano e sono analizzati in continuo H24. I principali parametri monitorati sono la sismicità, la deformazione del suolo, le emissioni di gas, le caratteristiche delle acque di falda, la microgravità e tanti altri parametri, le cui misure sono integrate anche da misure periodiche effettuate sul territorio e che concorrono a definirci lo stato del vulcano. Grazie 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 Grazie